Ragazzi, tenete, questi sono per voi. Ma che so, succhialini, a che servono? Sì, se la fa tu hai il boom boom car, ha come un auto sconto, però con le macchine vere. Quindi scoppiano i vetri, saltano gli sportelli. E questi servono per proteggere gli occhi. Tieni, io non lo faccio. Ma guarda che è fichissimo, l'ho fatto la settimana scorsa, non è successo niente. No? Vuoi? Ma vabbè. Madonna, ma chi è quello? Ma è fichissimo. Se lui guida, io sto in macchina con lui. Olli, e ti atti una volta, madonna. Eccoli, oh, stanno arrivando. Cinque macchine rubate, prese da un carrozziere per poco più di mille euro. Ci si scommette sopra. E l'ultima che cammina vince. Il rifiuto del sistema. È vero, sarà sbagliato. Ma quanto mi piacerebbe essere lì in mezzo. Ciao, neri. Che fai? Vieni con me. Come se vinciamo, come se li riesco con me, se le partaggiano a fare e facciamo pace. Dio, Fabio, non stiamo più insieme, capito? Quindi niente cena, ok? Va bene, ok, come vuoi. Ragazze, sono di nuovo su piazza. E le uniche ci siamo lasciate. Quindi, chi vuole venire con me, prego. Fabio, non ci posso credere. Mi sembrava bellissimo. Con quel tuo viso solare, quel tuo sorriso speciale, con il tuo sguardo, l'amore, negli occhi sempre lo stesso sapore. Morivo per lui. La mia prima volta, il mio primo amore. E ora lo guardo e non sento niente. Insomma, niente no. Però quanta stronzo. La mia prima volta, il mio primo amore. La mia prima volta, il mio primo amore.